E buonasera, buonasera, si è appena conclusa la seconda edizione del Ciao Drag Queen Triveneto ed ha vinto lei, la nostra Clito. Allora, le prime impressioni? Ah, finalmente! Dopo tanto tempo ce l'ho fatta, ho vinto anche io un premio. Sono reginetta di qualcosa, del Ciao Drag, tanta roba. Tanta roba, tanto lavoro e insomma, i risultati li abbiamo visti. Cataldo, il mio compagno di viaggio è te la parola. Grazie, 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 è stata una lunga cavalcata, ben quattro puntate, Clito. Quattro puntate e mezzo, abbiamo fatto anche uno speciale di Natale. È vero, è vero, è vero, anche lo speciale di Natale, sarai contenta. Accidenti, alla fine la fatica ripaga. Ripaga, ripaga, perché è vero, le nostre concorrenti hanno lavorato tanto, quattro mesi, pensate, e quattro serate per arrivare a una vincitrice. E quest'anno la vincitrice è la Clito. Orgogliosissimi. Assolutamente sì. E ora, con lei ci troviamo il 10 di maggio a Torino. E che dire, complimenti ancora. E non finire mai di stupirci. Grazie, Clito. Grazie.